Anche Le Bebè è presente a questa bella edizione di Vicenza Oro 2022, tante le novità che avete in servo e che state presentando ai vostri clienti e partner. Intanto oggi voglio dire che compiamo 15 anni di storia. Le icone di Le Bebè hanno vestito tantissime donne, tantissime mamme e sono diventate un'icona di stile irrinunciabile per tutte le donne che vogliono ostentare la maternità. In tutto questo abbiamo cercato negli ultimi anni anche di ampliare il nostro raggio di azione, il nostro target di riferimento, quindi allargato alla donna in generale che deve esprimere anche tutta la sua femminilità. Uno di questi risvolti è stato proprio la creazione delle nostre famose icone in chiave più giocosa, in chiave più colorata e quindi abbiamo tirato fuori per questa fiera in prossimità della prossima oramai imminente primavera le figure di Le Bebè in chiave colorata, giocosa, anche per cercare di stemperare un po' quelli che sono gli attuali momenti che stiamo vivendo. E poi ci sono tante altre novità che presenteremo a settembre, cosa importante per assicurare un po' tutti i gioiellieri sia ritorneremo in campo con corposi investimenti di natura pubblicitaria che ci sono stati richiesti negli ultimi anni che si vedranno da qui a breve.